Quella del confronto pubblico tra candidati ad una carica elettiva è sempre una buona idea. Avere la possibilità di comparare, magari dal vivo, programmi, idee e il modo di esporle dei diversi competitors, dà ai cittadini elettori la possibilità di esercitare in maniera più compiuta la democrazia. Questo perché ogni scelta vera nasce dall'adeguata conoscenza dei termini della questione e delle diverse opzioni. Riposava senz'altro su queste considerazioni generali il confronto pubblico organizzato domenica pomeriggio a Termoli da un noto quotidiano telematico dell'area. Seduti allo stesso tavolo, i quattro candidati che ormai tra meno di una settimana si contenderanno l'ambita carica di sindaco della città adriatica. Continuità, discontinuità o rivoluzione? Volendo sintetizzare e quindi semplificare, sono le tre opzioni incarnate, in ordine sparso, da Angelo Sbrocca, Nicolino Di Michele, Marcella Stumpo e Francesco Roberti. Durante l'appello al voto dei quattro, qualcosa però è andato storto. Dalla platea, abbastanza numerosa, si sarebbe levata un'invettiva all'indirizzo di Roberti, mentre quest'ultimo stava per prendere la parola. Per tutta la risposta, il candidato, invitato per imprecisati motivi a vergognarsi, ha risposto per le rime, lasciando il tavolo per avvicinarsi al contestatore. Come si vede dalle immagini, non sono mancati attimi di tensione, che hanno coinvolto anche, tra l'incredulità generale, quanti tentavano di rasserenare gli animi. Quando, non senza sforzo dei, tra virgolette, pacificatori, tutto è rientrato, il confronto è ripreso con la tranquillità che lo aveva caratterizzato fino a pochi minuti prima della brusca interruzione. Alla fine, dunque, l'esito dell'iniziativa, di cui accennavamo all'inizio, sicuramente è raggiunto. I cittadini elettori sono usciti da quella sala con un'idea più precisa su idee, programmi e candidati in lizza, nonostante il vibrante fuori programma.